Sì. Esatto. Cioè, ci devo lavorare. Cioè, tu sì, perché io ormai ho l'esperienza anche per baccare. Ah, ah, sì, è vero il missile. Non sono dimenticato. Adesso arrivano i kamikaze. Sì. Sì, è vero il missile per dei torbi sponibili. Voglio provare a fare... Prova. Sembra se è resciente a pilota. Più che altro capire come funziona. Non è avanti a avanti a avanti a me, però. No, no. Non ti preoccupare. No, insomma. Mi preoccupo lo stesso. Ma questi nemici ti si spawnano in faccia, nel vero senso della parola. Ma perché tu sei sempre in casino? Me lo spieghi questo? Perché abbiamo modi di giocare diversi. Attacco aereo, squadra delta. Se compra la squadra delta, che cosa serve? Eh, che ti aiutano a uccidere i nemici. Oh, cazzo. Ah, ma sei qua. Allora, guarda qua. Che... Il nemico dove sta? Questo può essere un bel posto. Questo può essere un bel posto. Dove? Qua. Io guardo da questa parte, tu guardi da questa, non lo so. No, perché ti possono spavarare da dietro lì dove c'è la cascata, quindi non è un buon posto. Un buon, un buon posto. Un buon posto. Ok, adesso, prima che arrivino i cosi, i nemici, cerchiamo di eliminarli un po'. Ma un pochino, proprio un minimo. Come ad esempio qua. Guarda qua, umiliazione. Cosa succede, no? Il cane, il cane. Morto. Ma tu sei sempre in casino, cioè, guarda che sei qua. Via, 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 via. Aia. Aia, 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 aia. Mi sta arrivando il cane. Emorragia. No. Emorragia. Emorragia. Ma dai, ma, vaffanculo. More. Ma dai, ma non posso, non posso, non posso, non posso giocare così. Eh. Esplode tutto. Mi devo conoscere subito l'autoreal animazione a fine andata. Ah, si può comprare? Eh, certo. E dove? Eh, nella cassa delle granate. E dove si compra? Nella cassa delle granate. Portami, portami lì. Io ti sento. Lo, lo, vedi perché dai, c'è il simbolo delle granate. Sai che cos'è una granata? Sì, sì, non so. Come è fatta una granata? Sì. L'unico problema è che costa 4.000. E dov'è? Quale sarebbe di queste? Equipaggiamento. E autoreal animazione, però costa 4.000. Sì, ne ho solo 2.600. 2.700. Sì, costa un bordello. Uh, un juggernaut. Come un juggernaut ancora? No, due. No, sono due. Oh, cazzo. Eh, ma mettiamoci qua. Cioè. Alla nostra postazione. Io non mi faccio problemi, ovviamente. Alla nostra postazione. Alla nostra posizione super tattica. Aiuto, eccolo. Ma cosa aiuto? Guarda, è morto subito? Cioè, è un... Sei un grande a scoprire questo. Sei stato un grande a scoprire questo posto. Ovviamente. 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 Allora, adesso sta arrivando che il mio... Mi sono rotto i coglioni di aspettare. Allora, non ce li faccio vedere. Ahia! Come ha fatto? Ok, brutta idea, brutta idea, brutta idea. Brutt idea. Oh, cazzo, no! Oh, è morto. Brutta idea, però. Oh, 4.000. Adesso posso comprare l'autore di animazione. Ma per quanto dura l'autore di animazione? Finché non è... Muori. Finché lo schermo non è di... E venta tutto rosso. E tu sei per terra. Esatto. E ma è attiva ogni volta? Ogni volta che muori o solo una volta? No, una volta. Dopo quando... Se muori e non hai l'autore di animazione, ti devo reanimare io. Se riesci a reanimare io. Sempre, sì. Perché... Perché qua hanno fatto l'autore di animazione automatica e che hai la... che hai la rianimazione manuale. E che se hai... se hai... Tu non ce l'hai, devo fare la rianimazione manuale. E non quella automatica. Ma dove stai sparando? Ai nemici con la CR. Attenzione che lancia la flash. E' moragia. Ma sì. No, ma è automatica. Per fortuna tua. Per fortuna tua. Una granata là. E vediamo se riesco per qualcuno o no. E muore. La CR è molto utile in online. La prossima ondata probabilmente morirai e mi dovrai curare tu. Esatto. Quindi cerchiamo di stare uniti. No, io uso la mia vegetale attrice adesso. Contatti nemici in avvicinamento verso di voi. Yuhuu. È divertente. È divertente. Yuhuu. Ah, dai lì. Guarda qui. Ah, dai lì. 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 Anche il giochino. Giochino spazio. Sto uccidendo tutti, no? Molto promovolto. È buona, è emorragia. Molto promovolto. Probabilmente lo taglierò ogni due parti. Probabilmente. Aiutami. È un attimo che... Hai nemici. Hai nemici qui che mi rompono. Tompono. Ci carichiamo. E si via sparare la spalla. Eeeh. E non c'è ancora. no 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 dove sei? aspetta no ma ce n'è uno dopo abbiamo tutto il tempo adesso bisogna che mi riprenda un po' esatto perchè non posso morire ho prendi la squadra delta la squadra delta prendi la squadra delta ho capito e in pratica ci aiuta l'esercito in pratica ci aiuta si Dov'è l'elicottero? Qui o lì Dovrebbe essere un po' più semplice Ma non ho mai capito come si chiama quell'elicottero lì Ancora il C4 Ah ma i C4 sono esplosivi legendari Ci stanno pienamente circondando Infatti questo è qua Vai eliminato, vai eliminato insieme a questo che va a congiungersi con lui Io stavo uccidendo un membro della squadra delta quindi Ma bravo il C4 Ok E non sono morto, incredibile Devo comprarmi le munizioni Siamo a 8000 Ma forse io mi... Devo comprare le munizioni... Allora io l'ondata a Venettuno mi prendo la squadra antisommossa Mi prendo Io no Sì Oh la la Anche ondata siamo? 18? No ma anche... Alla vendita arrivano i prossimi altri Giangerla 3 3 3 Giangerla Sì Alla vendita arrivano i prossimi altri Giangerla Alla vendita 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 No Solo io Guarda Ma non sei sempre in casino Ma se tu stai dove ci sono io almeno Ma che c'è il cane di merda Ora un 29 Allora adesso c'è la 30 Eh sì 30 Alla Ok Fini qua Siamo andata a 20 dove sei? 20 sono qua Dove sei qua? Sono qua dove c'è la macchina distrutta Dove c'è il nostro posto Il posto migliore Il nostro posto super tattico Sì Se riesco a venire Ecco Adesso mettiti lì bene Quindi mettiamo qui e aspettiamo che arrivano i Giangerla Adesso aspettiamo E' uno scrocchiaggio di dita Ok eccole Eccole Dove hai Giangerla? Vai lì Non vedo Non vedo Non vedo Non vedo Non vedo Non vedo Vai Non vedo No Te lo scorsi Vai spara spara Sempre so vedo Ok Ma siamo dei grandi Guarda Oh l'ultimo L'ultimo 9.000 9.000 9.000 Si 9.000 dollari Ecco Adesso A quanto sei tu 7.000? Sono a 7.000 Mi ricarico le munizioni Io ho appena chiamato la squadra antiso Sono più forte della squadra antiso Sono più forte della squadra antiso Sì hanno gli scudi e le mp5 Perfetto Abbiamo un soldato Un soldato E un caporale Un caporale Edittura Sono più forte i caporali No I più forti sono gli Sergenti Siamo bene i caporali Sì ma Quelli sono Sono vice Ma non muoio no Oh Scusa Eh no adesso facciamo più ti ho sparato non per tanto, volevo sparare a te, volevo sparare al nemico ma se spariamo le gambe e la testa questi hanno il fud io non ho ancora capito oh cio 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 finito d'ondata finito forse aspetta aspetta che cosa avevo visto uno scudo anti sommossa tanti sommossa 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 allora allora la capo e la capo si 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 me la cambio adesso io che che sono un vero vero giangelo me la cambio con ma ti protegge molto l'oscudo anti sommossa un po' mirino acco aggressivi il problema è che non puoi sparare si che puoi sparare si che puoi sparare si che puoi sparare vicino e se sei qua ecco sto emorragico ma sparare in testa ah eccolo qua vai 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 devi rianimare è colpa tua oh ma sparare in testa si è finito io non avevo raggiunto il nostro obiettivo il nostro obiettivo no non è andata a 26 comunque comunque ragazzi il video è finito con è andata a 22 e niente nel prossimo video faremo la mappa interchange e come sempre vi ricordo di mettere un bel mi piace di commentare il video di iscriversi al mio canale e se volete anche su quello del mio amico Gabri e niente dopo questo video vi saluto e vi aspettiamo con un prossimo video della sopravvivenza su mv3 ciao